Ok, inizia un altro livello di Brave, lo spirito danzante Adesso dobbiamo risalire per sconfiggere un boss Debole, un boss debole, cioè l'orso Gli animalisti vorranno che il mio canale si chiuderà dopo questo video Perché veramente li brucerò, lo manterò al rogo, quel maledetto orso Muoviti Aspetta, devo scappare No, ho sbagliato Vabbè intanto che ho provato ho salito tutto Però per far mostrare faccio vedere come ho fatto a salire Perché pensavo che l'ho fatta a telecamere spenti e pensavo che non avrei se Sta seguendo No Facciamo vedere Scusate per questo problema Ok Ora voi Quando Vabbè potevo tagliarla quella parte Muoviti Sali Ok adesso saliamo Vabbè che il bastone si è spento ma fa niente Ok 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 E così venite qua Benissimo Ora che l'ho fatto vedere si combatte l'orso Aia mi sono fatto male Un minuto Che poi come vedete ho Ora ho avuto la vita intera Ho ripreso tutta la vita Vabbè Togliamo questo breve tragitto che non serve a me Perfetto Se lo so che per danneggiarlo Prendi quel bastone Se no quello ci fa male Ok Ora attaccandolo così Se lo attaccate sempre Li farete sempre male Non è come uno di quei boss Che nella maggior parte dei momenti è immortale Ah io mi sono fatto male Mi sta uccidendo E poi ho detto debole Ah io mi ha fatto male Sto morendo Col cavolo che è debole Ok è morto Ok ora lui sta appartando A lui No Se con l'orso è una cavalla è una breve Perché è il vecchio sadico E vuole che lo uccidiamo Ok Ok Il problema qui è che non mi ricordo tanto bene Speriamo però che ci sia Non le posso distruggere E per di più anche vite Poca vita Scendi Sennò essi Remerci Sennò fuori Ops Ho sbagliato Vabbè faccio dei errori assurdi Oddio Ok Adesso si possa dire Il ritorno dei ruti Come Quanti tazzini faccio Salvire Ah Capito Quanti tazzini faccio Ci devo saltare sopra Salto con più palle E riusciamo a sbagliare E riusciamo a sbagliare Dico prima Dico prima Dico prima Vabbè fa niente Lasciamo sta cosa di con noi Gli inglesi Sì però Come faccio A fare sto punto Che non mi ricordo Cerchiamo di capire Aspetta Sennò Bravissimo E saltato Non posso fare un salto del genere Vediamo più o meno le porzioni Sì più o meno Ok Ora Salto Salta Sì col cavolo Che ce la posso fare Ora però Non so come faccio Dannazione Ma hai detto Non ha saltato Salta Ma ecco perfetto Ci ha fatto Ora Però devo capire sto fatto Come fa Ma io questa Sto litigando Giaco Anche con la visuale E se Vabbè Vabbè Cercherò di capire Come si è capito Che da lì Non si andava Dalla sua parte O meglio Vabbè Non ho capito Proprio io Mi ha aiutato Mia mamma Comunque E' fatto Sta che siamo qui Un bravo Leccemento Ho fatto Ho da fare Villaggio Cercare il caso Tornare alla tua prossima lezione Ok Perfetto Ah benissimo Continua a muoversi Non ho capito Non ho capito Non ho capito Ah no Perdi più a voi Ok Ok Ah 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 Posso Tu guardi Ok Ah 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 A roads Ah Dov'è Salta no, io sono sguardo meno male ci ha riuscito salta non cadere perfetto hai 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 ok rientriamo ecco mi sono anche fatta ma c'è una camera venuta alla testa giocante di punta testa giocante di punta ma tu quant'altro visto abilissimo l'acido ha colpito l'anneato dove saltare no no ok troviamolo e leviamoci il pensiero mi sono rotto le palmi sono rotto il pene ma le palmi stanno cominciando a girare come è come è lui in questo momento salto no perchè mi può fare salti all'indietro come matriz spazio spazio aspetta mappa mappa no ho detto mappa non si per sei anno no 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 mi stai sbludendo mi stai sbludendo mi stai sbludendo ok quanto v'è aspettato un attimo quindi finisce un altro livello di breve lo spirito lanzante la prossima ok dopo essere impazzito credo spaccati oh alleluia mappa vedi ma che se la fai anche da solo vedi che dovevi andare il foglio in fondo si va bene basta lo rompere eh si si va bene brave molto tempo fa una terribile creatura devastò la nostra pacifica vallata per salvare la sua gente il spirito danzante la nascose nel sacro terreno di sepoltura mi ha fatto soltanto giocare la mia sanità mentale da adesso in poi sono pazzo eh ma anche no ok si procede adesso bisogna andare a uccidere l'ultimo insetto non è vero no ascoltate quel che dice l'attdatare l'ultimo insetto unIDO le fai su un'esercizio per si sta andando benissimo ma dov'è? ok guarda dove sono andato qui per niente spaccati 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 Ok, bisogna andare da. E sai che cosa me ne può fregare? Ecco, perfetto, l'ultimo insetto. Come cacchio ho fatto ad entrare da dentro? Va però a dire che non c'è tempo. Quindi interrompiamo veramente perché lì sarebbe considerato parte del livello. Perché non sapevo più trovare la parte, l'alcrotte ci avevo rinunciato e quindi finisce un altro livello di prima, la ricerca e lo spirito danzante, alla prossima.